Il procuratore capo di Bari Antonio Laudati chiederà alla procura di Lecce di essere sentito nell'ambito dell'indagine che lo vede indagato per favoreggiamento abuso d'ufficio violenza privata. L'annuncio arriva all'indomani delle convocazioni fatte dalla magistratura salentina di 6 PM baresi sentiti dal procuratore Cataldo Motta come persone informate sui fatti. La cosa che mi sorprende, dice Laudati, è che ad oltre un anno dall'apertura dell'inchiesta io non ho mai ricevuto alcuna contestazione e men che mai una richiesta di essere ascoltato. Questa situazione produce un grave pregiudizio alla mia onorabilità senza contare che analoga difficoltà la vive anche l'intera procura di Bari che ha diritto di sapere se accuse tanto infamanti per un magistrato siano state riscontrate. A questo punto ritengo che sia il repentaglio e la credibilità della giustizia e delle istituzioni. Per questo non posso più esimermi dal chiedere con determinazione di essere interrogato dalla procura di Lecce perché venga rispettato il principio del contraddittorio e quello dell'accertamento della verità su ipotesi di reato per le quali avvertono poche difficoltà ad individuare gli elementi costitutivi. I sei magistrati baresi sentiti a Lecce erano tutti titolari fino a qualche mese fa delle più grosse inchieste sulla pubblica amministrazione e sulle fughe di notizie, massimo riservo sul contenuto delle audizioni e persino sulla ragione che ha spinto la procura di Lecce a convocarli. È noto però che da circa un anno la procura salentina ha incorso un'inchiesta sul procuratore laudati, indagato per favoreggiamento, abuso d'ufficio e tentativo di violenza privata. Questi è accusato da un suo ex PM Giuseppe Scelsi di aver fatto rallentare l'indagine sulle escort che Giampaolo Tarantini ha portato a casa dell'allora premier Silvio Berlusconi tra il 2008 e il 2009.